Sui giovani d'oggi ognuno ha da dire la sua. C'è chi li definisce ciusi, da tradurre autarchicamente in schizzinoso. C'è chi li chiama bamboccioni o scansa fatiche, chi li invita a zappare la terra. Ma se lo meritano davvero? Certamente no, non tutti almeno. A sentire la storia di Fiorenzo Foti viene infatti da pensare che di giovani che si danno da fare oggi ce ne siano e come. Un esempio è proprio lui, studente, premiato oggi all'Università d'Annunzio Chieti Pescara, nella sede Teatina, nell'ambito del Non ci ferma nessuno talk, iniziativa motivazionale ideata da Luca Abete, storico inviato di Striscia alla Notizia. Tema di questa nona edizione, il futuro non fa paura. Io sono cresciuto con i nonni perché da quando sono nato i miei genitori si sono lasciati, hanno deciso di andare a vivere. Mia madre a Roma, mio padre si è rimasto a vivere a Reggio Calabria, dove io vengo e dopo i 18 anni ho deciso di cominciare a lavorare. Quindi ho affrontato le difficoltà comunque emotive e anche economiche, perché crescendo con i nonni non è che voglio dire si navigava nel loro, però ho affrontato le mie difficoltà scegliendo di lavorare, non trovare scuse. Il futuro non fa paura è il claim di questa non edizione ed è un po' un modo per esorcizzare le paure. Però è anche vero il contrario, o meglio, la paura non fa futuro. Spiego ai ragazzi che bisogna distogliere l'attenzione dalle paure, dalle cose che ci ossessionano, a ragione o no, e cominciare a guardare invece quelle cose che abbiamo davanti e che possiamo magari raggiungere. Se noi perdiamo di vista le prospettive che si aprono davanti a noi, effettivamente il futuro può diventare un problema grosso. Da nove anni ascoltiamo i ragazzi, ci confrontiamo con loro e proviamo a formulare delle risposte. Le fragilità esistono, sono palesi e cerchiamo di far capire ai ragazzi che la fragilità è qualcosa che però non è un difetto, non è una malattia, è qualcosa che si può affrontare, la si può superare e magari cominciare a costruire quello che può essere il nostro cammino. L'obiettivo principale è stare bene con se stessi, trovare il giusto equilibrio tra quello che si fa, il riscontro che si ottiene, che si raggiunge e poi con semplicità, secondo me, vivere le cose che la vita ci offre, senza perdere di vista azioni belle come il volontariato, di cui parliamo molto nel nostro incontro, come l'amore per la natura, per l'ambiente che ci circonda, oppure l'amore per il prossimo, per le persone che abbiamo vicine. A volte non chiediamo ai nostri genitori come stanno, come vogliamo pensare che questo mondo possa andare meglio. Io quando giro, magari vado in un locale, eccetera, non è infrequente che mi capiti di incontrare degli studenti che lavorano lì come camerieri dentro questi locali per mantenersi agli studi, fanno dei sacrifici importanti. Poi noi ogni anno ne individuiamo uno che ha una posizione un po' così e gli diamo un premio, ma ce ne sono tanti. POSTIO DUNDA GIUVENTUTE